Si è consumata nel peggiore dei modi una lite familiare avvenuta questa mattina intorno alle ore 8 e 30 all'interno di questa abitazione incontrata San Giuseppe a Brittoli in provincia di Pescara. A perdere la vita Cesidio Cocco, 74 anni pensionato, mentre la moglie, 66 anni, che in un primo momento sembrava in gravi condizioni, non è in pericolo di vita ma resta comunque ricoverata presso l'ospedale civile di Pescara. Stando alla ricostruzione dei carabinieri della compagnia di penne e del nucleo investigativo del comando provinciale di Pescara, coordinati dal PM Andrea Papalia, il figlio della vittima, 47 anni, avvisato da alcuni vicini di una lite tra i genitori, si è recato presso l'abitazione ed una volta entrato in casa è subito intervenuto per separare il padre che malmenava la moglie. Da qui è nata una colluttazione tra il figlio e il padre con la morte di quest'ultimo, forse a causa di un trauma derivante da oggetto contundente. Si esclude però l'accoltellamento. Al momento sul figlio si sta procedendo con l'accusa di omicidio ma per ora non sono state adottate misure precautelari. Al momento dell'accaduto in casa era presente anche il figlio disabile della coppia portato via da alcuni parenti. Sul posto è intervenuto il medico legale Ildo Polidoro che ha disposto l'autopsia sul corpo di Cesilio Cocco. Una notizia peggiore non poteva esserci. Persone normali con le quali si è cresciuti insieme che non si riesce a capire come si possa arrivare a fatti che non hanno nessuna spiegazione. L'inspiegabile è successo. Ecco, vi sconvolge tanto questa notizia? Il sentimento generale che c'è adesso è proprio di incredulità, anche di un certo sgomento perché erano persone che si vedevano tutti i giorni, ci si incontra quotidianamente. Non si trovano né parole né sentimenti per spiegare queste cose.